Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe Ragazzi ci siamo, l'evento di fine anno è finalmente giunto Quindi oggi andiamo a vedere nel dettaglio quello che è stato aggiunto in questo evento di fine anno E poi si va a pullare, ovviamente si va a pullare Come potete vedere abbiamo la nuova icona del bonus Dove praticamente abbiamo tutte le campagne attive in un'unica sezione Quindi la nostra campagna di fine anno ci consentirà di ottenere più esperienza, più denaro, più oggetti ricevuti eccetera Le notizie ovviamente sono tutte integrate con la nuova versione di gioco Dove abbiamo la presentazione del nuovo banner La presentazione della nuova campagna di anno che abbiamo già potuto leggere e comunque guardare insieme Se vogliamo possiamo giusto dare uno sguardo veloce per confermare le nuove daily pull 10x per tutto il mese di gennaio praticamente Vedete? Dal 31 fino al 24 gennaio Il bonus che ci verrà dato direttamente all'accesso del gioco che ho già riscattato con 3000 gemme blu Un ticket 5 stelle, 20 ticket e 20 grindstone chuck che ci consentono di aumentare il livello Prima, anzi i vari volumi delle pullate Quindi 3 o più armi 5 stelle garantite con il volume 1 fino al volume 3 Che sono quelle che vi ho fatto vedere Dove praticamente Esatto, volume 2, volume 3 eccetera eccetera Saranno praticamente fino al gennaio 1 e gennaio 2 Quindi abbiamo praticamente il 31, l'1 e il 2 Quindi 3 pullate al giorno dove avremo 3 o più 5 stelle in una botta sola I login che ci daranno fino a 6000 gemme Tutti i bonus attivati durante la campagna Le missioni per ottenere 1000 gemme e 100 ticket Quindi veramente tanta bella roba durante tutto questo evento di fine anno I banner di Cloud Sephiroth che saranno quelli su cui andremo a pullare Quindi già sappiamo le armi, già sappiamo i costumi Qui ovviamente viene introdotta nuovamente la struttura di bonus Per quanto riguarda ovviamente costume più overboost delle varie armi E poi vabbè, questo già sono tutte cose che sappiamo Il banner step up che comunque viene confermato essere appunto con le gemme Con le gemme scioppate L'unica cosa di cui effettivamente un pochettino si sente la mancanza Sarebbe stato magari mettere le armi con l'hub all'interno dello step up Essendo una celebrazione speciale I boost per quanto riguarda i crystal pack Che sono direi veramente buoni in realtà come voluta Perché hanno veramente ottime gemme E il prezzo comunque sia è contenuto rispetto ai pacchetti che escono solitamente E qui invece abbiamo l'evento vero e proprio Quindi l'evento vero e proprio dove abbiamo una storia All'interno di questo evento Dove appunto la gente di Wutai sono in un umore festivo E praticamente stanno dando il benvenuto al nuovo anno Improvvisamente un drago Praticamente fa la sua apparizione E inizia a solcare il cielo Lasciandosi alle spalle dei regali speciali per il nuovo anno Bisogna raccogliere questi regali E riceverne ovviamente come tesori Cioè bisogna raccogliere questi regali Che appunto vengono rappresentati Da dei tesori inestimabili Il periodo sarà appunto dal 31 dicembre fino all'11 gennaio Come si fa a giocare? Al solito bisogna ottenere questi regali Per poi scambiarli all'interno dello shop Abbiamo la nuova arma di Eris Sempre free to play Abbiamo ovviamente anche ticket 4 stelle Ticket Guaranteed draw ticket addirittura Per i personaggi Specific weapon parts Ora le andremo a vedere comunque all'interno dell'evento Il nostro boss sarà per l'appunto Yuffie Come vi avevo già detto precedentemente Elemento raccomandato fuoco Sigilli Circolare triangolo EX Con raccomandazioni di tipologia Attacco fisico Come potete vedere Yuffie praticamente Nasconderà il suo Nasconderà il suo effettivo sigillo Per interrompere la sua sequenza Diciamo di attacco E questa nebbia shroud potrà essere comunque cancellata Attaccando con le abilità che corrisponderanno al sigillo nascosto Quindi bisogna provare per trovare il sigillo nascosto Quindi lei avrà uno di questi sigilli Noi dobbiamo attaccare e scoprire effettivamente qual è Quindi dobbiamo portare un personaggio Con il sigillo circolare Uno triangolare eccetera eccetera Inoltre Yuffie utilizzerà molto gli attacchi fisici E nuove abilità che incrementeranno il suo attacco fisico Quindi bisogna ridurre l'attacco fisico O comunque aumentare la nostra difesa fisica Quindi il mio Barret è già pronto Qui abbiamo ovviamente tutte le armi Vabbè il banner in feature ed eccetera eccetera Già sappiamo tutto Quindi andiamo a vedere un attimo nel dettaglio Il nuovo evento Dove appunto possiamo vedere un attimo i regali Ecco qua qui abbiamo i regali da raccogliere L'evento è praticamente uguale come tutti gli altri eventi Qui abbiamo ticket 5 stelle Per un'arma a garantire 5 stelle 2024 ovviamente accessori da prendere Poi abbiamo l'arma di Eris Che non so se si potrà prendere anche dalle co-op O solo tramite appunto questi premi Ticket 4 stelle o più garantita Specific Weapon Part di Eris Memorie di Eris Memorie di Matt E poi con la seconda parte dell'evento Avremo Glenn Che avrà praticamente la stessa identica arma di Eris Solo che ci sarà Glenn Quindi sappiamo già come funziona prima e seconda parte Ok direi che ci siamo Siamo nella parte più interessante Abbiamo il nostro banner Abbiamo i nostri ticket Tutto che ci è stato già regalato Quindi signori si comincia Questo è il nuovo anno Spero che possa essere fortunato un po' per tutti Vediamo però come si conclude Questo 2023 Su Final Fantasy VII Ever Crisis Cominciamo col primo pool dello step up Che è gratuito Quindi Primo pool step up Gratuito Vediamo un po' quello che ci esce Allora Cloud Non è con la skin alternativa Quindi Chissà magari uno shaftino così Giusto per salutare L'anno nuovo shaftando Potrebbe sicuramente essere una cosa che Potrebbe anche darmi fastidio Almeno Cerchiamo di chiudere l'anno in bellezza Però vedremo Ci sono tante pool E invece no La prima è una bella shaftatina Ok Giusto per rimanere in tema Poi ovviamente il secondo pool Sarebbe da 1000 Il terzo da 2000 Il quarto da 3000 E poi ovviamente Ricominciamo il loop Con il primo Sempre gratis Quindi tecnicamente 3000 GM rosse Anzi 6000 in questo caso GM rosse Ci regalano Praticamente 1, 2, 3, 4 E 5 Pool Perché Ricominciamo il giro Mentre invece Qui abbiamo Il primo volume Del banner All Stars Chiamiamolo così Come quello di Dissidio per Omnia Dove si riceveranno 3 o più armi 5 stelle garantite Quindi qui già Almeno è un sospiro Di sollievo Per tentare Alla fortuna Di tornare indietro Ovviamente qui Possiamo skippare L'animazione Perché sappiamo Che 3 Saranno garantite What? Ma perché ne ho 2? Ma non dovrebbero Non dovrebbero essere 3 o più 5 stelle garantite C'è un fake out Non ho capito Ci sono le animazioni fake Fatemi capire Perché ne ho soltanto 2? Allora Tifa Intanto Cosa è? Uh Tiger Fanks Buono Intanto mi è uscita Anche l'arma di Red Che vabbè Che vabbè Ce le ho però Oddio Soltanto 2 Me ne sono uscite Rage Collar Ma scusatemi Ma non dovevano essere 3 o più Cioè Dal bannerino Ce l'ha scritto 3 o più 5 stelle Mi sbaglio Quindi sono stato scammato Devo fare un ticket Devo fare un ticket Ok Sono andato a leggere La descrizione E in realtà Nel banner Quella garantita È una sola Quindi Non capisco Il 3 Cioè è scritto Garantita 3 o più Armi 5 stelle Quando in realtà La garantita È una sola Cioè a me è andata Anche bene a sto punto Perché me ne sono uscite 2 Quindi Boh È stato un po' Critico Effettivamente Scritto sto banner Comunque Andiamo con i ticket E dopo ci dedicheremo Al banner specifico Di Sephiroth e Cloud Perché Ovviamente io andrò A pullare lì Però Uh Vediamo che cosa Però mi esce Perché potrebbe uscirmi Uh Sephiroth Che cos'è Sephiroth la Unibi Potrebbe interessarmi E invece No Abbiamo la Alloy Va bene Va bene Nel frattempo sto facendo Mi sa le missioni Quelle dell'anno nuovo Che mi stanno Comunque apparendo Mentre sto pullando Quindi Probabilmente Mi prenderemo Qualche ticket in più Peccato 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 Se fosse stata la Unibi Sarebbe stata tanta roba Per Sephiroth Io infatti Ora nella wishlist Metterò tutte le armi Che ho intenzione Di completare Essendo vicino Agli overburst Finali E poi Metterò tutte le armi Che mi servono Per incrementare Statistiche O quello Che effettivamente Mi interessa Principalmente Ok Ultimi dieci ticket Che poi Dobbiamo vedere Gli altri Dobbiamo andare a vedere Prendere E pullare Gli altri Possibilmente Quindi vediamo un po' Che cosa Che cosa si ottiene Ovviamente Allora Via Pullata Dai Un bel perry Una bella schivata Qualcosina Oh Bene 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 Dai 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 Chi è Barrett Bene Barrett Mi va bene Ok Una W machine W machine È ottima Perché riduce L'attacco fisico Quindi è un'arma Buona Per questo evento E adesso andiamo a vedere Le 5 stelle Garantite Così Ci togliamo anche Questo Ci togliamo anche Questo peso Quindi Meth Ah la core defender Ok Core defender Che non è malvagissima Anche se Mi sarebbe piaciuto Ottenere Magari Qualche altra cosa Anche se in realtà Ormai le armi di meth Avendo l'arma Avendo l'arma nuova Non mi interessa Uh Bellamidi Ah ok La prototype Crimson Che È comunque utile In questo evento Perché comunque sia Appunto Mi serve il fuoco Quindi Tutto sommato È utile Ah Ancora Barrett Uh Il cannon Il solido Bazooka Quindi riduzione Attacco magico Che Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ok Signori Siamo arrivati Al piatto forte Siamo arrivati Al piatto forte Banner di Sephiroth e Cloud Con le nuove armi Di cui Abbiamo già parlato E Andiamo a modificare Ovviamente La wishlist Perché devo Modificare la mia wishlist Di Cloud Devo mettere La Murasame Che mi serve L'ultimo Overboost Per andare A Overboost 6 E Poi voglio L'hard edge Poi Mi serve Di Eris La Fairy Tail Che devo Metterla Praticamente Con l'overboost 6 E poi la posso Togliere Qui mettiamo La san Umbrella E qui Mettiamo Invece La Onibi Di Sephiroth Queste sono le armi Che mi servono Come utilità Nel momento In cui trovo Murasame E Fairy Tail Le posso Già togliere Dalla pool Delle armi Perché Ovviamente Le porto Overboost 6 E quindi Possono restare lì E metteremo Altre armi Ovviamente Si va Per l'arma E il costume Di Cloud Che sono quelli Che mi interessano Principalmente Sinceramente Sephiroth In questo caso Non mi interessa Carina la meccanica Di riduzione Difese Eccetera Eccetera Però Sia il costume Che tutto il resto Non mi interessa Qui Cloud E sicuramente Il pezzo forte Fire Arcanum Attacco fuoco Quindi diventa Il mio DPS Fondamentalmente Il mio DPS Elementale Quindi Sì Qui Possiamo Già fare Tutto E Let's go Prima Pullata Ecco Cominciamo Benissimo Con un solo Stamp Però Ripeto Lo stamp Singolo Non è detto Sia un malus Perché dipende Cosa mi esce Qua Cioè Se mi escono Comunque già Una o più armi 5 stelle Con un solo Stamp Potrebbe anche Essere una cosa Interessante Se invece Vedremo Che non mi uscirà Niente Quello Sarà lo Shaft Quello sarà Sicuramente Lo Shaft Quindi Andiamo a Vedere Ecco Questo Per esempio È un bellissimo Shaft Dove Appunto Uno stamp Niente Di Niente Da prendere L'arma nuova Di 6 Filot 4 stelle Che Sinceramente Non mi interessa Però Due stamp Ok Due stamp Che Ci sta Ci sta Ci sta Ok Nessuna skin Alternativa Vediamo un po' Se Shafteremo Ancora una volta Il banner Di Matt E Olè Benissimo Altra Shaftatina Che Fa sempre Piacere Il banner Di Matt E di Barrett Mi erano andati Fin troppo bene Quindi Effettivamente Una Shaftatina Ci può stare Nelle prime Pull Però Adesso Speriamo Che Il vento Soffi In modo Diverso Perché Già siamo A 4 stamp E ancora Ho fatto Praticamente Zero 4 stamp Zero armi E questa Non è una cosa Buona Quando si Pulla Assolutamente L'ideale Sarebbe Ovviamente Una 5 stelle Per ogni Pull No Sarebbe Diciamo Sarebbe La cosa Ideale Però Magari Recuperiamo No Ne prendiamo Ora 17 Tutte In una Volta No Credo Proprio Che non Prendiamo Un Kaise Mi sa Che Mi conviene Fermarmi E pullare Poi domani Con calma Perché È Incredibile La montare Di sfiga Che sto Avendo Cioè Praticamente Sono Vediamo Se arrivo Al sesto Stamp No Neanche Al sesto Stamp Arrivo Benissimo Quindi 5 stamp Con Zero Armi Cioè Non ho trovato Niente Zero Armi Proprio 5 stamp Zero armi È davvero Brutto È una Pessima Partenza Cioè Proprio Nel banner È veramente Una pessima Partenza Queste Sono Pessime Partenze Vediamo Se ci Riprendiamo Ma Il Diciamo Che il Deficit È pesante Madonna Mia Madonna Mia È un Massacro No Meglio Se pullo Domani Mi sa Che è meglio Se pullo Domani Qui ormai Raggiungiamo Il sesto Stamp Che Madonna Preciso Preciso Cioè Anche pochi Stamp Mi stanno Uscendo Ok E qui È Comunque Già Una Garantita Ma Madonna L'unica Proprio Garantita Solo Quella Di Cloud Cioè Mi piacerebbe Averne Più copie Sinceramente Perché Mi piacerebbe Averne Più copie Però Questo 2023 Lo stiamo Chiudendo Molto Male Quindi Speriamo Che possa Essere Un monito Magari Per il Futuro Oh Tre Stamp Ok Recuperiamo Qualche Cosino Ok Vediamo Se Questa Seconda Parte Di Pullata Va Meglio Cioè Tre Stamp Sono Comunque Buoni Diciamo In metà Dell'opera Però Sarebbe Stato Meglio Trovarne Più Copie Ovviamente Una sola Copia Si fa Veramente Veramente Poco Anche Anche Diciamo Due Copie Tecnicamente Si fa Veramente Poco Ok C'è un Perry Però Ok Sephiroth Ed Eris Quindi Potrebbero Essere Onibi E Togliere Effettivamente Ah no Sephiroth L'arma Nuova Addirittura Giustamente L'arma Nuova Di Sephiroth È In Rate Up Rispetto Giustamente Rispetto Alle Altre Armi È In Rate Up Quindi Ci sta E Di Eris Invece La San Umbrella Ok Che Mi Servono Che Mi Servono Va Benissimo Mi Piacerebbe Avere Almeno Altre Due Armi Di Cloud Se Devo Essere Sincero Due Copie Avere Due Overboost Rossi Mi Andrebbe Bene Per Cloud Al costume Ci arriviamo Sicuro Anche Precisima Ci arriviamo Sicuro Quindi Almeno Questo Quei tre Stamp Mi hanno Aiutato Tanto Mi hanno Veramente Aiutato Tanto E Un po Un peccato Se non Dovessi Riuscire A Trovare Le copie Dell'arma Di Cloud Perché Comunque Almeno Due Overboost Per Fare Qualche Danno In Più E Sempre Raccomandabile Mamma mia Che Shaft Niente Madonna Sto Fine Anno Chiuso Malissimo Penso Che Questo È Cui Io abbia Pullato Praticamente Nel Corso Di Ever Crisis Letteralmente Il Peggior Banner Cioè Nel senso Ok Abbiamo preso La skin Però C'è Il peggior Risultato Possibile Che ho ottenuto In un banner Una sola copia Vabbè Sì Ho preso Anche L'arma Di Sephiroth E Una San Umbrella Però Nessun Overboost La cosa Importante E Non ho preso Non ho preso Gli overboost Che C'è 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 Proprio Zero Anche Col costume C'è Anche La pull Con il costume Incluso Niente Praticamente Non ho preso Niente Se non Il costume Di cloud Che era L'unica cosa Che effettivamente Mi interessasse Che Ovviamente Mi dà Attacco fisico E il Flame Black Dark Anum Che Giustamente Era Il nostro Obiettivo Principale Però Per il resto Niente Proprio Fallimento Totale Fallimento Veramente Fallimento Totale Non so Se effettivamente Proseguire Per Per Tentare Qualcosa Ma C'è Anche Con 9000 GM C'è Queste 9000 GM Potrei Conservarle Ovviamente Per il Futuro C'è Da un Lato Sarebbe Anche Quasi Un Peccato Utilizzarle Però Mi è andata Veramente Veramente Male Proprio Shaftato In maniera Incredibile In questo Banner Una sola copia Dell'arma Di Cloud Una sola copia Dell'arma Di Sephiroth Costume Una San Umbrella E fine In Praticamente 20 20.000 GM Perché avevo 33.000 Quindi Fate il calcolo Che Sono 9000 Quindi 23.000 GM Ecco Mettiamola Così 23.000 GM Praticamente Uno Shaft Allucinante Vabbè Spero Che a voi Sia andata Molto Meglio Spero Sicuramente Che a voi Sia andata Molto Meglio Fatemi Sapere Come andate Se avete Già pullato O magari Aspettate Di Pullare Con calma Io Ho detto Ciò Rinnovo Ancora Una volta Gli auguri Di Fine Anno Spero Che Possa Andarvi Meglio E Come sempre Ci becchiamo Alla prossima Bye Bye